Allora, buonasera a tutti quanti, intanto volevo ringraziare ancora te Francesco perché ci ospiti per l'ennesima volta in questo posto bellissimo e questa collaborazione con Molly Bloom va avanti felicemente e continuerà il 24 marzo, mi sembra la prossima, sarà con un'altra lezione con Giun Palairi, siamo molto felici di averla. Oggi invece abbiamo Alessandro, abbiamo Alessandro Piperno, doveva essere la scorsa settimana ma causa influenza non è stato possibile, io l'ho preso molto in giro, ho fatto finta anche di arrabbiarmi, poi l'influenza me la sono presa io, quindi diciamo ce la siamo in qualche modo passata, segnalerò prima di dargli la parola che nell'invito, mi è stato fatto notare purtroppo forse troppo tardi che nell'invito che vi abbiamo mandato la parola research è stata scritta con un errore tipografico e quindi credo che sia destinato a diventare una specie di gronchirosa della storia degli inviti. Anche questo magari in spirito con l'Accademia. In totale spirito con l'Accademia. E quindi insomma io non perderei altro tempo, sono molto felice che Alessandro sia dei nostri e quindi gli cedo subito la parola e poi magari alla fine facciamo qualche piccola comunicazione di servizio. Quindi a voi Alessandro.